Assessore Beres, facciamo un mini bilancio di quelli che sono stati questi anni di suo lavoro in un momento in cui mai come in questo momento le amministrazioni hanno avuto difficoltà proprio nel reperire e nel poter spendere soldi. Allora, buon pomeriggio. Fare un bilancio significa allo stesso tempo sottolineare le criticità che abbiamo dovuto affrontare ma anche con grande soddisfazione sottolineare il fatto di come sono state superate grazie a uno sforzo, a un grande lavoro entusiasta e collegiale e grazie al supporto di soggetti di cui abbiamo potuto avvalerci in questi cinque anni e penso soprattutto al fatto di essere inseriti nel circuito regionale dell'ente regionale teatrale che ci ha concesso di mantenere il livello qualitativo elevato che avevamo anche in anni meno difficili però è stato molto importante anche l'apporto del curatore della stagione musicale, il professore Uvarra che ha mantenuto appunto il livello che avevamo col precedente curatore, il prestigioso maestro De Incontrera e allo stesso tempo ha anche aperto diverse porte del teatro nei confronti delle scuole, del pubblico più giovane quest'anno abbiamo fatto uno sforzo ulteriore per andare incontro alle nostre famiglie e al pubblico che magari ha ancora un lavoro precario, una sistemazione economica non definitiva apprendo ancora di più il discorso degli sconti e dei vantaggi il pubblico di Monfalcone e del mandamento è un pubblico esigente in fatto di cultura perché è abituato bene e noi non abbiamo voluto farlo in questi anni e il pubblico ci ha ripagato ampiamente perché se riusciti addirittura ad adottare il numero di spettatori e di abbonati e voi capite cosa significa, è anche di un contributo dello Stato, della Regione, della Fondazione in certi casi si è addirittura dimezzato Tra Trieste e Udine non è facile? No, ma non solo Trieste e Udine ma sono stati aperti anche diversi altri temi molto più vicini in termini di chilometri perché non dimentichiamo Gradisca la sua stagione Corpus, Cervignano, Gorizia tutte realtà che in loro modo fanno un'offerta e il pubblico non sempre è disposto ad affrontare un video però noi vediamo che a Monfalcone ha una stagione prestigiosa sia come pro che come musica e quindi la risposta c'è Grazie